dante zarti in esclusiva per la calabria presenta miss italia è la miss numero 45 miss italia non sognare ad occhi aperti partecipa anche tu chiama il 348 66 29 623 l'iscrizione è gratuita se vuoi ospitare una selezione o una finale regionale di miss italia nella piazza del tuo comune centro commerciale o nel tuo locale telefona al 348 66 29 623 se vuoi ospitare o partecipare allo spettacolo di miss italia 348 66 29 623 agente regionale unico dante zardi miss italia l'evento dell'estate media partner televisivo